tre anni sul miglio, otto in primo, uno in secondo, in nove, favori del pronostico di vice tra Tenebroso, Luis Vincenzo Luongo e Turbo di Azzurra con Antonio Di Nardo, mezzo meccanico in movimento, buoni tre anni in questa quinta del convegno, si va al paletto dei duecento, allineamento completato, Tiffany gara arretrata, benissimo l'allineamento tutto sommato, galoppa Turbo Rosso numero due e va via la macchina in velocità, alla chiusura dal centro Tenebroso Luis, sbrigativo nei confronti di Titorea Jet, i due in lotta, Titorea, Tenebroso all'argo Tempesta Mac, 13,6 lancio, insiste il Tenebroso, passa e incumbe la tempesta, si completa la piegata e anche i quattrocento iniziali, passati nell'ordine del 29 un po' di spicciole, la testa e va su Tenebroso Luis, prende la via del largo anche Terrorcaf numero 7, il 2 a tabellone 44,3,600, si limita a largo la leva di Minucci, è venuto via invece Terrorcaf bene nella scia della leva di Minucci, mentre al comando è sempre il Tenebroso targato Luis, 1,1 il mezzo miglio, si viaggia da 1,16, si sono formate tre pariglie, è venuto via anche Turbo di Azzurra per coprire Tiger Jet, cavalli di fronte, il chilometro timbrato in 1,16 e 4, 15 e mezzo di frazione, 500 alla meta, il Tenebroso tiene ancora a bada la tempesta, poi sulla curva finale viene via Turbo di Azzurra, 15 e 3, 1,31 e 7, 3 quarti di miglio, Tenebroso tenta lo stacco, prende un po' di vantaggio, il bel Tenebroso ha avuto molto vantaggio, si ingamba ora Turbo di Azzurra, di dentro è Titorea Jet, ma ormai non c'è più tempo, calcoli alla perfezione per Lomino di Agnano con un Tenebroso e anche bello, terzo Titorea, secondo Titorea, terzo Turbo di Azzurra, 2 minuti e un po' di spicci, 1,15 e 2, un cost to cost notevole per senza tattico, ma soprattutto per grinta finale dell'Omino di Agnano, Vincenzo Lungo che torna così in auge con una sua pennellata, Tenebroso Luis, 2,46 al totalizzatore, un bel Tenebroso questo targato Luis, linea lo studio.